Oggi con noi un ospite speciale R2D2 Ah, quindi c'è partita? Sì, sì Ma da come va? Sì, sì, va benissimo, lo possiamo muovere Vabbè Sperando che non cada, appunto Proprio perché oggi il topic della puntata è la tecnologia La trasformazione digitale, appunto Perfetto, trasformazione digitale Lo rappresenta benissimo R2D2 Occhio che cade dal tavolo magari No, ma io credo che sia abbastanza stabile Che i suoi sistemi di puntamento riescano a farlo rimanere nell'area delimitata Sì, abbiamo un sacco di riferimenti alla trasformazione digitale Abbiamo i floppy nello sfondo Oggi c'è di tutto Floppy, robot che saranno i nostri nuovi receptionist Forse Forse O ci accompagneranno Io sono sempre molto scettico Quindi per quanto mi riguarda Anziché arriveranno i robot Come i nostri receptionist Concentriamoci sul lavorare con quello che abbiamo Perché sarà un problema delle generazioni future, penso Ok, parliamo di trasformazione digitale nel mondo dell'ospitalità Vai È un argomento interessante perché lo applichiamo nel contesto dell'ospitalità Ma è sicuramente un treno che ha investito tutti gli ambiti Una trasformazione digitale che parte dalla vita di tutti i giorni Quindi sono cambiate gli strumenti che utilizziamo quotidianamente Sì, dallo smartphone dici Quindi siamo passati dal fax Dal fax all'email Dal telefono con la cornetta I numeri che si giravano con il dito Allo smartphone Mi confonde un po' il robottino Ai robottini telecomandati Chi fa qualcosa di bello? No, lo blocco Lo blocchi Quindi questa trasformazione digitale a 360 gradi ci ha investito Ci ha investito anche nel nostro lavoro quotidiano Nel nostro modo di fare, di vendere ospitalità Quindi oggi cerchieriamo un po', ragioniamo un po', facciamo un po' di brainstorming Su quali sono queste novità Vediamo se siamo al passo con i tempi oppure no Penso più o meno questi sono gli argomenti Ok, partiamo quindi dall'avvento del cloud Sì, io penso che dal punto di vista dell'imprenditore alberghiero e del suo team L'avvento del cloud sia stato il primo cambio Internet e il cloud Deve li metterei un po' a pari pari Perché che cosa è successo? È arrivato internet e tutta quella vendita che avveniva Distribuzione che avveniva in maniera analogica offline È passata online Quindi dalle agenzie di viaggio, piano piano, siamo passati ai portali OTA, possiamo dire Ai portali OTA, sì Ok, questo è abbastanza conosciuto, credo Sì, questa è stata una rivoluzione Storia recente Sì, che è avvenuta all'inizio anni 2000, più o meno Però ecco, anche lì l'albergatore si è trovato davanti a un bivio Da una parte poteva scegliere di abbracciare questa innovazione di internet Quindi realizzare il proprio sito internet Costruire le proprie pagine, mettere delle foto accattivanti Quindi iniziare già a costruire un proprio brand Una propria presenza online Oppure, oppure no Se si è identica chance, opzione Ce l'hanno avuta le agenzie online Anzi, le agenzie che erano non online Ma che hanno potuto diventare più informatizzate oppure meno Ok E qui nascono i grandi portali Nascono con insieme ad internet, no? Booking.com, Expedia e così via Ok, che ci hanno appunto portato la diffusione degli alloggi Di massa, un turismo anche più accessibile a tutti Permettimi di dirlo Come no? Perché tante persone che magari per prenotare un viaggio prima partivano O dal classico hotel di fiducia Quindi per tanti anni sono andato in vacanza su un hotel e continuo ad andare lì Lì hanno permesso di portare anche più destinazioni Sì, infatti per quest'anno non cambiare Stessa spiaggia, stesso mare È cambiato in realtà Quindi cosa succede? Che il turismo più mordi e fuggi è cresciuto Prima per una vacanza era una cosa solenne Si andava in agenzia Si cercava Partiamo dei viaggi leisure ovviamente Si andava in agenzia Si sceglieva il periodo Si facevano i preventivi lì Una caparra Una caparra Tutto quanto molto solenne Tutto quanto molto complicato Poi internet ti ha permesso di andare su un portale Scegliere alle due di notte se sei insonne O la sera insieme a tua moglie Ha sdoganato Ha sdoganato, aperto tutto Ma soprattutto Quindi questo è lato consumer Lato la persona che deve prenotare un soggiorno Ma il grosso cambiamento c'è stato Nel mettere a disposizione delle piccole strutture Ma anche degli hotel indipendenti che ci ascoltano La possibilità di avere una visibilità importante Perché le OTA cosa fanno? Le OTA sono le online travel agencies Sono dei portali che di fatto vendono all'hotel La visibilità Chiaro E hanno creato anche nuove destinazioni Secondo me Quindi nuove destinazioni dove andare in vacanza Se penso a come era una ventina di anni fa Una destinazione per andare in vacanza Sulla riviera romagnola Poteva essere Rimini, Riccione Mentre le agenzie di viaggio Hanno proprio sdoganato completamente la distribuzione Ah beh Intendi quelle online ovviamente Sì Sì Quindi anche magari location Destinazioni meno conosciute Meno conosciute Esatto Lì voleva arrivare Ma lì è quello il discorso della visibilità Secondo me Quindi cosa hanno fatto? Hanno introdotto un nuovo modo di avere accesso alla visibilità Esatto A mettersi in mostra Se hai 5 camere Se ne hai 10 Ma anche se ne hai 30 Non hai il budget economico Per creare delle campagne pubblicitarie Per poter andare a promuovere la tua presenza In Olanda In Olanda In Germania In America Ma anche all'interno dello stesso territorio italiano Diventa difficile Certo Quindi quando noi mettiamo il nostro annuncio su Booking Per esempio La nostra struttura la sponsorizziamo su Booking Quella percentuale che paghiamo ovviamente Va a ricoprire dei costi di visibilità Certo Che l'agenzia fa Quindi oltre che la gestione della pronotazione Quindi ovviamente Parlando con gli albergatori Ti travi davanti sempre un bivio Cioè chi odia i portali OTA E li vorrebbe Vorrebbe la pelle Sì Non sono Non vanno demonizzati Non vanno demonizzati Sono d'accordo Sì In termini giusti Non sono delle Ollus Sono ovviamente delle aziende E come aziende Devono puntare al loro fatturato Ma Rimaniamo sul discorso della trasformazione digitale Quindi diciamo che questo è stato un po' il primo nucleo Che ha portato Un avvento di nuovi strumenti Perché appunto Per gestire le camere all'interno dei canali OTA Sono stati introdotti Degli strumenti software Come il Channel Manager Che ci aiuta a gestire La distribuzione Da qui Sono sempre Sono aumentati continuamente Gli strumenti Talvolta slegati Quasi Una giungla Tentacolare Diciamo Qualche volta rappezzati E per forza Il Channel Manager Secondo me È il primo esempio Di automazione Dei processi Di gestione alberghiera Ok Parola un po' grande Però è tra i primi Perché tu dici Devo distribuire I miei alloggi Le mie camere O i miei appartamenti Che siano su 5, 6, 8, 10 portali Su più portali Su più canali in generale Ok E a questo punto Mi serve uno strumento Che mi faccia da orchestratore Ok E il Channel Manager Ovviamente è venuto in aiuto Quindi è nato come Primo sincronizzatore E al giorno d'oggi Sfido Non credo che ci siano Alberghi Che lavorano in maniera Professionale E che non utilizzano Un Channel Manager Certo Proprio perché Il Channel Manager È alla base Di questa gestione Un attimino più strutturata Poi esistono Delle eccezioni Hotel che dicono Io voglio vendere Solamente ai miei Clienti abituali Oppure solo tramite Il mio sito Oppure solo tramite Un portale Ma sono sempre di meno Secondo me Ok Tutto questo ovviamente Era accompagnato Da uno strumento Come il PMS Il Property Management System Che c'era già da prima Già prima dell'avvento Il Channel Manager Perché comunque L'esigenza Di gestire degli alloggi All'interno di un planning Di inviare la schedina Alloggiati Di gestire la tassa Di soggiorno L'istat Questo c'era già da prima Beh sì Il gestionale Anche se credo Che le strutture più piccole Non se lo potevano permettere Perché la tecnologia Ancora era cerba E quindi Parliamo dei primi anni 2000 Ovviamente Quindi non parliamo Di una vita fa Parliamo di Pochi anni fa Quindi la tecnologia Era ancora cerba E quindi dotarsi Di un software gestionale Era una spesa E quindi solamente I più innovativi Oppure i più grandi Riuscivano a Capivano l'importanza Di dotarsi di un software Ok Che spesso era appunto Slegato a questo channel Quindi avevamo Un canale Che era il nostro Gestionale Che era staccato dal channel Che gestiva i canali Quasi un paradosso Chiaro Quindi abbiamo La trasformazione digitale La distribuzione La vendita da una parte La gestione operativa Quotidiana dall'altra E poi Sono entrati in gioco La reputazione Quindi la brand Reputationship E tutta la parte Delle recensioni Che è stato un altro blocco Da dover gestire Sì come no Un altro canale importante È la nostra visibilità online Inteso come Che cosa dicono i clienti di noi Che impressione hanno Del nostro hotel Come possiamo migliorare E così via Ok Quindi il vero giro Il secondo giro di boa Quindi il primo c'è stato Con internet È stato introdotto Dal cloud Secondo me Chiaro Che ha reso più accessibili Gli strumenti software A tutte le strutture ricettive Oggi abbiamo hotel Bed and breakfast Magari O extra alberghieri Di 5 camere Che già hanno Un software gestionale Chiaro Come ne abbiamo Ovviamente soluzioni Da 2-300 camere Che hanno ovviamente Anche loro lo stesso software Magari in una versione Leggermente più avanzata Chiaro Però il cloud Che cosa ha fatto Ha permesso di ridurre I costi Di sviluppo Di distribuzione E di installazione Di questi applicativi Per far sì Che qualunque struttura ricettiva Se li potesse permettere Chiaro Quindi Tutto si è semplificato Con il cloud Prima dovevi comprare un server Lo dovevi mettere dentro Uno stanzino Con la ridondanza Per internet Quindi la doppia connessione Per evitare di andare offline Magari un gruppo di continuità Oppure una batteria Un sistema di backup Un sistema di backup Un tecnico Che te lo configura Adesso con il cloud Cosa fai? Compri un software cloud Per esempio Noi abbiamo un slope Ovviamente Software gestionale Tutto in uno Che con un'unica piattaforma Che integra funzionalità Come il channel manager Il gestionale Il booking engine Il software per i preventivi Ha anche una struttura piccola Può Con l'unico interlocutore Avere accesso A tutti gli strumenti Di cui ha bisogno Per gestire in maniera Digitalizzata Avanzata Un robottino quasi Un robottino software Il proprio tel La propria struttura E questo secondo me È il cambio di paradigma Incredibile che c'è stato Chiaro Ma secondo te Dov'è la linea Di demarcazione Di tutta questa Trasformazione digitale All'inizio Hai parlato di robot Abbiamo scherzato Sul concetto di robot Ma dov'è la linea Di quello che può essere automatizzato Quello che deve fare ancora Un umano Tra virgolette È bello La linea dipende Ovviamente Ci sono certe operazioni Che non possono essere demandate Alla macchina Per quello che all'inizio Della puntata Scherzavamo sul robottino Che avrebbe fatto da receptionist Oppure no Proprio perché credo Che Cosa ne pensi tu Edoardo Ma I robot Ancora avranno Molto Molto tempo Prima di poter sostituire Un intervento manuale A una telefonata Per esempio Ti chiama un cliente Un potenziale cliente Che ha visto la tua struttura Che ha letto le tue recensioni Che sta valutando Di soggiornare da te Però è indeciso sulle date Non sa che servizi offri Magari Vuole anche una piccola consulenza Per il suo viaggio Vuole essere rassicurato Vuole fare quattro chiacchiere Perché ha voglia di parlare un po' Anche perché ricordiamoci Che se chiamano Già hanno fatto Un bel passo in avanti Verso la tua struttura Ma sì Siamo al 70% Secondo me Ok Se poi dopo Riesci con un approccio professionale Quindi l'addetto al booking Che risponde alla telefonata In maniera professionale Riesce a dare quelle informazioni Di cui il potenziale cliente Ha bisogno Magari proporre date alternative Nel caso in cui Non si abbia disponibilità Certo Oppure cercare di spingere Un alloggio di tipologia Superiore o inferiore Oppure cross sell Veramente È lì che sa la differenza Ed è lì che secondo me La tecnologia È un pochino scricchiola Perché ha bisogno Di quest'olio di gomito Di questo buonsenso Certo Che ancora non ha Quest'anima che non ha Per fortuna Ma sì Ma possiamo vederle Non in contrapposizione Spesso si fa l'errore Ma sai L'umano contro la macchina Ma magari può essere Un binomio Come no Uomo e macchina Quindi alcune operazioni Obbligatoriamente Le devono fare le macchine In modo tale Che poi l'uomo Il receptionist Riesce a investire Quel tempo In azioni che portino valore Perché poi è questo Che fa l'uomo L'uomo da valore Sì L'uomo da valore Bella Mi piace Quindi da una parte Abbiamo le nostre operazioni Macchinose Che devono essere Gestite dalle macchine Le operazioni invece Che hanno bisogno Di un tocco umano Che devono essere gestite All'uomo Alcune zone grigie Nel mezzo Devono essere gestite Un po' e un po' Quella prerogativa Però che abbiamo Che dobbiamo assolutamente Soddisfare E avere Delle strumenti Degli strumenti E anche una conoscenza Perché comunque Bisogna essere formati Sicuramente Chi ascolta questo podcast E chi vede questo video Ha già l'appiccio Giusto Non l'approccio Per dire Mi voglio documentare Voglio capire Come si può lavorare bene Quindi questo è un aspetto fondamentale Il voler lavorare bene Insieme agli strumenti giusti Sicuramente porterà Ottimi risultati E vi permetterà Di essere digitalizzati Al punto giusto Senza esagirare Perfettamente d'accordo Non aggiungerei altro Quindi mi raccomando Cercate di capire bene Qual è la linea Di demarcazione E non vedete Uomo e macchina In contrasto Ma in simbiosi Per lavorare meglio Lavorare insieme Ciao a tutti Buon lavoro Buon lavoro